Ambasciatore, finalmente in Sicilia, finalmente a Taormina, siamo a poche ore dalla cerimonia solenne di Consiglio Comunale, le sue prime impressioni sulla bella Taormina? È una impressione permanente che ha cominciato ieri quando ho arrivato all'aeroporto e ho visto a miei amici del progetto Corazione Italiana, con questo calore umano. Dopo quando l'ho conosciuto, io ho stato nel teatro, nel piccolo teatro, io ho visto l'amore dei taorminense, questo sentimento di solidarietà, di volere a salvare i bambini del sábado che stanno sperando il arrivo di gli angeli italiani che le salvaranno la vita. Sto sicuro che la preghiera che ogni notte, quando le madri e i genitori saranno ascoltate per gli taorminensi, sto sicuro, 100% sicuro, che salvaranno i bambini di Salvatore, per gli taorminensi. Noi questi medici li abbiamo appunto ribattezzati, come anche lei diceva prima, gli angeli del cuore. Ah, ecce, ecce, l'angeli del cuore, che provengano del cuore, ma del cuore di tutti. Non è qualcosa di meraviglioso, qualcosa che solo ho visto aca, a dormire. Io sono fortunato, il mio paese è fortunato, i bambini sono fortunato, fortunato, per aver incontrato questi angeli del cuore. E' una benvenzione di Dio. E c'è anche molta emozione da parte sua. Mi pare di leggerlo, diciamo, tra i suoi occhi. Sì, sì, io mi sento emozionato. E stiamo scrivendo una nuova relazione, una nuova, con Traita Orvina, con El Salvador. E un asunto trascendental, che salvare la vita di un amico. La speranza e il futuro del mondo sono qui. Grazie, Presidente. Grazie a lei di essere qua. Grazie a lei, Presidente, grazie per la sua attenzione, per la sua amistà. Grazie a lei di essere qua per questa nobile iniziativa. Grazie a lei di essere qua. La pazza e il ringraziamento. Anche voi siete nel cuore dei dominici. No, io scusami. Sto io. Diciamo che è il punto di partenza di una mission molto importante. Chissà dove ci porterà. Lo porterà. Sì. Donde noi vogliamo. Sto io sicuro che faremo cose incredibili. Questo è l'inizio di un'operazione del cuore. Del cuore per il cuore. Del cuore. Del cuore italiano. Del cuore del cuore dei bambini. Del cuore dei bambini. Del cuore dei bambini. Del cuore dei bambini. Ecco, il dottor Dario Salvo e anche il dottor Sasciagati ci dicevano qualche giorno fa in conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa qui a Taormina. Ci sono 500 bambini cardiopatici che sperano in un futuro migliore. Sì, è vero. Sono tanti. Sono tanti, è vero. E ogni giorno nascono con problemi. La lista continua crescendo. Per questo è l'importanza. L'importanza del progetto. Per salvare la vita. Per i bambini. Certo. Il progetto in maniera che abbia continuità. Esatto. Con il appoggio del Presidente, del Governo di Centragaquile, di Taormina, di Hacienda Sanitaria, di tutti. Los Angeles, una dottoressa. E soprattutto con loro. Sono instrumenti di Dio. Instrumenti di Dio. Sono portatori di speranza di vita. E speranza di vita. Speriamo. E' un portatore di speranza di vita. Che è una responsabilità, che è un amore. Che è una vocazione. Diamo appuntamento alla cerimonia di questa sera, dove insomma a tutti gli effetti potremmo dire quali sono appunto le finalità e quali sono gli auspici, i progetti di questa importantissima iniziativa. Buongiorno. Buongiorno. Allora ci sarà la firma di questo memorandum. La firma, sì. Di questo memorandum. Di questo memorandum. Che è il primo passo per questa iniziativa. Per questo, è stato un' intercambio di medici, studianti, paramedici, infermieri, di formazione, che è importante. Sono così importanti. Grazie. Grazie.